Siamo in diretta e siamo anche in diretta a Facebook a radio incontro Sergio Posati dovrei chiamarlo professor Sergio Posati buon pomeriggio buon pomeriggio anche a te è un po' strano vedermi così che è una ripresa per me e per te è la prima volta che la facciamo sì è la prima volta ma così siamo a tutto tondo benissimo allora Sergio Posati naturalmente come sempre e da sempre collaboratore di radio incontro ecco qua che dopo due anni di due anni in due anni ci ripropone il terzo libro i nostri giardini beh non è che lo ripropongo è un nuovo libro i due precedenti che tu hai di cui tu hai parlato già due anni fa e quattro anni fa ti ricordi il primo titolo prima che mi dimentichi prima che mi dimentichi il secondo era invece eventi che lasciano il segno sì allora ti spiego subito in poche parole il primo libro era semplicemente un riprendere vecchi diari che narravano cose avvenute negli anni 60 quando ero un bambino quando ero ragazzino e ritoccate soltanto queste agende piene e ho fatto il primo libro che era un gioco nel secondo libro invece è stato uno sfogo proprio interiore che io sentivo di fare assolutamente per togliermi quasi un peso che avevo dentro e mi ha scaricato totalmente bene che effettivamente devo averlo letto tre volte ho chiuso proprio con la lettura di quel libro il terzo libro invece è stato creato direttamente da me devo essere sincero anche se questo terzo libro io lo definisco libro storico perché effettivamente narra di tre decenni è quello degli anni 50 degli anni 60 degli anni 70 dove c'è questo ragazzino che cresce all'interno di una scuola elementare che si trova proprio sopra i giardini per chi conosce Nardi ovviamente sa benissimo quali sono i giardini di San Bernardo e questo bambino che per la prima volta mette piedi all'interno di questi giardini un giorno per caso e fa uno strano incontro con una vecchina una vecchina che stranamente noi ritroveremo anche in seguito diverse volte sempre la stessa come se gli anni per lei non fossero passati però stranamente questa sembra che sia stata una guardiana la guardiana di questi giardini che sono magici in effetti e quindi perché questo libro i nostri giardini io lo definisco allora storico per un motivo perché bene o male sono sei ragazzi che in ogni decennio sono stati scelti da questa vecchina che il 28 di dicembre di ogni fine decennio si ritrovano all'interno di questi giardini e seduti sulla stessa panchina raccontano come fosse un racconto personale quello che è successo in questi dieci anni sia a livello locale che a livello nazionale quindi tu non sai la ricerca che ho dovuto fare per fare una cosa del genere perché soprattutto degli anni 50 era un po' vecchiotta la storiella però mi ha fatto piacere perché da piccoli aneddoti che io ricordavo ho costruito un qualcosa che magari ha lasciato veramente il fatto come era accaduto ho messo di mio ben poco questo è successo nella seconda parte del libro dove appunto questi sei ragazzi proprio sempre il 28 giugno questi ragazzi che pur essendo tutti della stessa località non si conoscono si ritrovano e uno per uno sono ragazzi sui 18-20 anni quindi fidanzati tra loro scelti, c'è un perché sono stati scelti ma non te lo posso dire perché altrimenti perde il succo del libro poi oltre che ad essere storico ecco una cosa che ci tengo a precisare perché lo ritengo un libro storico? perché ultimamente a quanto pare la storia dovrebbe essere abolita vorrebbero abolirla anche nelle scuole e questa è una cosa bruttissima che abbiamo sentito io ho sentito insieme ad altri docenti ultimamente nell'ultimo decreto legge che è stato fatto negli esami di Stato il tema storico sparirà totalmente e questo non è bello perché la storia del passato i giovani la devono conoscere più che mai per sapere quello che è accaduto esatto magari quello che dovrebbero rifare è rimettere a posto un po' i programmi perché è inutile ripetere gli stessi programmi per alimentare le medie e le superiori un po' come cantava De Gregori la storia siamo noi certo la storia siamo noi è importante conoscerla certo difatti questi ragazzi che narrano quei fatti storici perché sono fatti veri questo significa rivalutare la storia secondo me perché soprattutto i giovani della nostra zona devono sapere magari che in quel giorno avvenne negli anni 50 tanto per portarti un esempio c'era una ragazza lì che parla e racconta che una sua amichetta si era dovuta spostare al nord con i genitori per lavoro e a un certo punto ci fu l'inondazione degli anni 50 del Polesine lì si rivive tutto quello che è accaduto in quel periodo che ha molto a che fare con quello che è successo oggi e quella è storia che i giovani devono conoscere allora sarebbe il caso io penso è arrivato il momento che i giovani dovrebbero studiare alle superiori la storia dal 900 e basta perché è quella che devono conoscere invece tanti ragazzi ancora non sanno chi è Martin Luther King non sanno chi è Kennedy hanno sentito il nome ma non sanno e questo non va bene quindi una rivalutazione della storia è autobiografico perché quel bambino ero io difatti se tu guardi la fotelina ecco io la metto lì perché so che c'è la ripresa se tu guardi la fotelina del libro è una vecchia foto che io ho ritrovato quando in questi giardini io ero piccolino avevo 5 anni 4 anni 5 anni qui sono e ci si ritrovava in questi giardini con la famiglia perché si ballava il sabato sera e in questi stessi giardini c'era anche un cinema un cinema gratuito un cinema all'aperto un cinema all'aperto se tu ricordi il nuovo cinema paradiso la gente si portava le seggiole per vedere il cinema gratuito le seggiole da spiaggia era una cosa bellissima eppure il play per metterlo per terra esatto esatto il play l'ho usato in un'altra fase degli anni 60 quando una ragazza racconta che mentre stava col suo spasimante a vedere la serata finale del festival di Sanremo 64 stavano seduti sul parchè dove sopra era stato messo un play e loro sdragliati si danno il primo bacio mentre guardano le canzoni e parlano delle canzoni si parla un po' di tutte di cose frivole, di cose serie e non è ambientato nei giardini ma no si svolge nei giardini loro sono lì che parlano e raccontano ma ovviamente ah ecco perché i racconti si svolgono nei giardini esatto ma attraverso i racconti chi legge rivive quello che effettiva ecco io ho letto che ci sono altri luoghi per esempio il castello di San Casciano quella è una storia a parte allora beh ti dico subito che i giardini sono magici c'è una magia che esce fuori a un certo punto e mano a mano che loro raccontano gli eventi la natura risponde ad esempio se c'è un fatto triste loro si accorgono che il cielo si fa tutto grigio e si accorgono che i rami degli alberi si abbassano quasi si chinano in senso di rispetto oppure magari sentono un terremoto forte se hanno parlato di un fatto ancora più triste quindi la natura allora lo scopo è quello di far capire che la natura vuole essere rispettata voleva essere rispettata già negli anni 50 e che la natura fin da allora già faceva capire che se non la si trattava meglio prima o poi sarebbe successa qualche catastrofe cosa che sta avvenendo io fortunatamente l'avevo fatto l'avevo scritto già da un anno il libro poi l'ho dovuto rimettere a posto quindi io lo ritengo abbastanza attuale poi il terzo profilo è quello magico ma quello di quello io non parlo lo lascia a lettore lo lascia a lettore perché il tratto finale è forse quello più bello succede che quello che era un ragazzino dopo il passare degli anni si ritrova anche lui un giorno in questi giardini quando vede una città completamente cambiata sembra che siano passati forse anche dei secoli lui non riesce a darsi una spiegazione finché non rivede delle persone che lui aveva conosciuto in vita che anche loro stanno facendo lo stesso tragitto per attraversare un magnifico monte che è stato sembra costruito per far passare dalla parte opposta dove c'è il castello di San Casciano dalla parte opposta dei giardini e lì tu capirai a che cosa serve poi c'è una cosa strana che ho riscoperto e ho studiato devi sapere che proprio davanti ai giardini dalla parte opposta della pallata del Nera c'è un eremo, un vecchio eremo è chiamato l'eremo di San Iaco e ci sono diverse opinioni su quell'eremo io ho dato un po' la mia nel senso che ho detto che questo eremita viveva lì perché ascoltava attraverso il foro che entra all'interno della montagna tutto ciò che avveniva all'interno della città quindi sapeva tutte le cose che non potevano essere nascoste poi c'è il finale che secondo me è la parte più bella basta leggere le ultime tre pagine però è chiaro se non inizi a leggere dall'inizio dopo perdi il filo e lì il bello è stato che quella parte lì mi è venuta fuori in una notte io non sapevo chiudere il libro in quella maniera invece ho capito che era proprio quello e quindi dove finisce la storia e dove comincia la fantasia? la realtà e la fantasia? beh Stefania la fantasia nelle parti storiche non c'è perché sono tutti effetti reali dove finisce la storia e arriva la fantasia appunto sì però non volevo farti questa domanda in riferimento proprio alle varie sezioni del libro ma proprio nel tuo pensiero dove finisce la storia e dove comincia la fantasia? allora la storia il libro poteva anche andare avanti senza storia effettivamente perché il bambino che incontri all'inizio del libro tu poi non lo vedi più per i tre decenni lo ritrovi quando sono passati tanti anni lui stesso non sa quanti anni, decenni o più di cento anni siano passati e non sa quello che sta avvenendo soltanto lì lui capisce che quello è un luogo particolare ecco perché ho chiamato i nostri giardini magici perché avviene qualcosa di strano che è sorprendente dove lui incontra nuovamente poi neanche spiego chi incontra effettivamente dico semplicemente che vede due occhi che lo stanno guardando e queste due persone si abbracciano perché era da tanto tempo che non si vedevano più è un libro che io consiglio di leggere perché è bello questa volta mi è piaciuto veramente allora io ti conosco so che cosa significa la parte finale di questo libro i lettori naturalmente lo scopriranno se ci riusciranno certo no ma guarda sai che io ho presentato questo libro al museo Eroli di Nardi sì domenica il 14 ottobre che era il tuo compleanno che mi è il tuo compleanno esatto quello sono fatto per regalo e adesso lo devo ripresentare alla mia scuola all'ITIS però sinceramente c'era una scadenza che io devo rispettare non sia le corse che ho dovuto fare alla fine perché non era facile insomma per scriverlo per finire di scriverlo o per pubblicarlo per pubblicarlo perché scriverlo ogni volta che tu lo riprendi per ritoccarlo c'è qualcosa che non ti sta bene allora alla fine dici basta lo voglio in questa maniera e così deve essere insomma però però ecco ti dicevo che io ho sentito anche diverse persone che hanno letto il libro persone che mi direbbero in faccia mentre al secondo libro mi hanno detto abbiamo pianto tutta la notte siamo stati tristi era ovvio che sapevo di che trattavo quindi questa volta invece sono stati tutti soddisfatti questa cosa mi fa molto piacere difatti il libro sta andando bene quindi c'è una maturità da parte tua? beh se non è arrivata adesso non arriva più penso ma più che maturità sai che cosa penso che mano a mano che tu fai è come se tu se tu metti una ragazza alleni i muscoli come? come se tu allenassi i muscoli sì anche quello ma se tu metti accanto a te a parlare una ragazza che è la prima volta che sta davanti al microfono tu resteresti senza parole no? e per la paura e perché non saprebbe quello che tu ormai sei un'esperta nel microfono e quindi è tua anche per me scrivere e mettere a posto il primo libro è stato più difficoltoso adesso ti accorgi che il libro a volte scorre da solo e tu scrivi perché qualcuno di detta dentro certo capito Valentina quindi lo puoi fare anche tu questo benissimo bene allora vogliamo aggiungere dove si possono acquistare dove si può acquistare il libro sì e anche l'appuntamento in cui presenterai il libro non so se è aperto al pubblico oppure no tu dici quando ripresenterò sì sì alla scuola dell'ITIS allora ti dico solamente che sarà prima di Natale però il giorno te lo farò sapere comunque bene ancora non si sa sicuramente dovrò fare un'altra presentazione anche a Roma perché coloro che l'hanno presentato ecco ci tengo a dire che è stata l'ex provveditrice di Terni con un'altra dirigente scolastica che vogliamo dire nomi così magari si ritrovano nel video sì tant'è vero che pubblicheremo su Youtube esatto tant'è vero che questa volta tra la tanta gente che è intervenuta veramente questo sono ripasso pure io senza parole c'erano tanti e tanti insegnanti che conoscevano me ma conoscevano anche l'ex provveditrice Sergi che è stata per tanti anni provveditrice qui di Terni e anche la professoressa Mengucci che è una dirigente scolastica e appartiene al MIUR del dipartimento del ministero della pubblica istruzione quindi è stata fatta con con tutti i canoni della serietà insomma il libro ecco bene dove si può trovare il libro? il libro lo si trova in tutte le librerie di Terni in tutte le librerie anche cartolibreria perché stavolta ho detto che tanto per comprare un libro non c'è bisogno di andare in una libreria che ti posso dire altolucata perché la trovo un po' dappertutto anche in una cartolibreria di Terni e Narni non si trova si potrà trovare anche online? no Stefania no perché tu sai che io con online non vado tanto d'accordo purtroppo bene per via ignoranza non è perché io non accetti anzi capisco benissimo che c'è una grossa carenza che però io non riesco beh già intanto il fatto che io abbia scritto il libro da solo inizialmente che era al computer ecco certo dopo però che l'avevo già scritto in altri quadernoni enormi e certo a penna tutto a penna rigorosamente a mano un po' come le vecchie cose di una volta rigorosamente a mano noi facciamo ormai copia e incolla purtroppo purtroppo sì eh sì perché tu non sai il piacere dello scrivere a mano quando ritrovi questi quaderni che stanno lì questo è l'originale effettivamente è vero è vero e danno poi nel tempo un valore incredibile certo a chi l'ha scritto grazie Sergio Sergio Posati grazie a te il nuovo libro lo ripetiamo lo facciamo anche vedere se lo vuoi eccolo eccolo e i nostri giordini e c'è anche la foto di Sergio Piccolino beh chiaramente nessuno mi riconoscerebbe penso che certo però è piacevole perché poi c'è una vecchia foto in bianco e nero degli anni 50 e le foto in bianco e nero secondo me sono le più belle sì è vero io vorrei prendere l'occasione per fare anche tanti auguri al Radio Incontro sì perché io in concomitanza dei miei 70 anni e in concomitanza del mio compleanno Radio Incontro festeggia 40 anni di attività e speriamo di festeggiarli nella migliore maniera possibile speriamo ci mancherebbe altro questo è quello che ci aspettiamo ok allora vi ringrazio nuovamente e un grande saluto a tutti gli ascoltatori grazie a te grazie e naturalmente buona vita lunga vita lunga vita ciao meno male che non mi hai detto del lupo perché non no infatti non te l'ho detto perché me l'avevi già fatto notare e quindi ho detto buona vita sai che adesso nel mondo dello spettacolo si dice o viva il lupo o buona vita ecco il lupo lasciamolo perdere come se tu mi parlassi dei piccioni io amo gli animali ma ci sono certi animali che è meglio tenerli a una certa distanza no? non certo i cani i gatti ovviamente sai quanto li amo pure io certo certo grazie ancora Sergio grazie a te grazie molti ti amano sappilo anch'io ciao ciao buona serata grazie a te grazie a te